Alla fine l'ha spuntata il nome più altisonante, il nome che aveva un grosso partito dietro, il PD. Loredana Capone, vicepresidente della regione, ha vinto le primarie di centro-sinistra. Per lei 3.743 voti, per Salvemini 3.210. Più distante Sabrina Sanzonetti, con 810 preferenze. Sembrava un testa a testa, un continuo ripetersi di due cognomi, Salvemini e Capone, nelle tre sale dell'hotel Tiziano che hanno ospitato i seggi delle primarie. Poi un cambiamento. La bilancia ha iniziato a precipitare da una parte e la Capone ha preso il volo. Nonostante i tre avessero presenziato nelle sale dell'hotel sin dalle prime ore della mattina, nel corso delle operazioni di scrutinio non hanno circolato in zona. Al posto loro, parenti e supporter, tesi e scalpitanti, facevano la spola tra le tre aree dello spoglio. Lei è arrivata trionfante solo a conti fatti, per parlare della forza del centro-sinistra e per proporre sempre più unità nella coalizione. Salvemini, dal canto suo, ha voluto sottolineare nel futuro quadro politico del centro-sinistra la non marginalità del 41% di votanti che lo hanno scelto, mentre la Sanzonetti si è dichiarata soddisfatta del lavoro svolto in soli 15 giorni. Anche il sindaco Perrone ha commentato l'esito delle urne, parlando di un risultato prevedibile ma pur sempre modesto per il Partito Democratico. Grazie. Grazie. Grazie.